Sì, è vero. Why in Estonia do you like a possible game? Ah, ma... Non lo dobbiamo piegare. Non lo possiamo piegare da lei mai. And down, and down. And down. No, dobbiamo farla ripare dall'altro lato. Capito? On the other side. And we can fold it. And... It doesn't touch me. Yes. It's ok? Yes. It's ok. It's ok? Yes.